Martedì 29 giugno, benvenuti a Occhio ai giornali, la rassegna stampa di FanoTV che anche questa mattina vi darà la possibilità tra poco di vedere quali sono le notizie più importanti del giorno attraverso il resto del carino e il Corriere Adriatico. Oggi la Chiesa Cattolica celebra i Santi Pietro e Paolo Apostoli, il sole sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.57. Dal sito della protezione civile delle Marche per oggi cielo sereno poco nuvoloso, attenzione i venti, venti moderati dal pomeriggio in particolare lungo la costa centro settentrionale, mercoledì 30 giugno, ultimo giorno del mese con cielo sereno poco nuvoloso, giovedì 1 luglio con cielo sereno poco nuvoloso, ancora un po' di venti moderati e tempo buono ancora anche per tutto il resto della settimana. Allora fa caldo certamente, insomma fa caldo anche se proprio adesso non caldissimo e il tempo è ideale per andare al mare. Noi questa settimana siamo collegati con una spiaggia di Senigallia vicinissimo proprio adiacente alla rotonda sul mare dove abbiamo la nostra bagnina che ci attende, buongiorno, benvenuto, eccola là la rotonda sul mare che ha ispirato niente meno che Fred Bongusto e che l'ha resa celebre, almeno così leggevo in un'intervista a Repubblica di qualche anno fa. Sì, buongiorno a tutti. Allora, direi che per oggi la giornata si presenta, come saranno le condizioni meteomarine? Ma oggi la giornata si presenta calda, meno ventosa di ieri, perché ieri pomeriggio c'è stato parecchio vento, però si prospetta una giornata bellissima, ecco. Ecco Laura, volevo chiederti, ma per quanto riguarda i turisti, immagino che Senigallia si sia già popolata di turisti provenienti un po' da... oppure ancora tarda a partire? Ancora tarda un pochino a partire. Abbiamo avuto e abbiamo dei turisti, ma per il momento principalmente sono tutte persone della zona. Quindi un turismo locale, diciamo, in qualche modo. Sì, da metà luglio solitamente... Eh, sì, sì, no, dicevi? Da metà luglio solitamente si muove un pochino di più il turismo da fuori, non quello locale. Da metà luglio fino al 20 agosto abbiamo diverse prenotazioni. Ecco, poi è confermato anche l'evento, diciamo, clou di Senigallia, che lì porta tanta gente, il Giamborì, mi pare che sia... Il Summer. Sì, sì, il Summer Giamborì. Esatto, anche se con tante restrizioni rispetto agli scorsi anni. Bene. Allora Laura, intanto grazie, noi ci rivedremo domani mattina e magari parleremo un po' di più della rotonda, che comunque è l'attività, giusto, mi pare, lì vicino... Sì, sì, sì. È aperta tutto qua? Allora, è aperta anche se in realtà ci si fa ben poco, ecco, fanno matrimoni, qualche mostra e si può visitare. Ho capito. Bene, grazie mille. Grazie a domani, allora. Buona giornata. C'è stato un incidente, ieri abbiamo visto anche nel corso del telegiornale, un incidente, un inferno in autostrada, due morti tra San Benedetto e Grottamare, traffico in tilt, questa è la fotonotizia su tutte le edizioni del Corriere Adriatico, ma l'apertura in quella pesarese è per il viale, la statale, anzi che potrebbe diventare un sottopasso, cioè l'interramento di quel tratto di strada dal teatro fino alla palla di Pomodoro a Pesaro con uno studio di fattibilità che in questo momento si sta ragionando e vedere un attimo se il gioco vale la candela, come si dice. Accanto alla rivoluzione viaria è previsto anche un nuovo assetto urbanistico dell'intera area. Di spalla invece la questione del Covid, post-Covid, anzi per chi ha già avuto il Covid, la priorità per i malati oncologici, l'incognita della variante Delta e il contagio al momento sotto controllo e i reparti Covid quasi vuoti, così l'attività chirurgica si prepara a recuperare il terreno perso durante questo anno e mezzo di passione causato appunto dal Covid. Ieri si è riunita la cabina di regia sulla sanità per fare il punto della situazione a guidare il confronto, la carica è l'assessore Saltamartini, in sostanza come è successo già nella prima ondata, negli ospedali con l'arrivo dei malati di Covid si sono un po' rallentate le attività chirurgiche e quant'altro, adesso si cerca di riprendere. Movida, movida violenta anche a Pesero, bisogna fermarla con un giro di vite, poi piazzava le auto fantasma, processo un concessionario e a Fano contrabbando ed evasione sigilli ad una barca di 14 metri. Non abbiamo la prima pagina del resto del Carlino semplicemente perché in queste settimane stiamo lottando contro il nuovo sfogliatore perché il resto del Carlino ha aggiornato i sistemi, ha cambiato un po' le cose, ma ci sono molti bug, così come hanno ammesso anche loro stessi dall'ufficio che appunto gestisce tecnicamente questa nuova piattaforma, ci sono dei bug che ci impediscono di scaricare i pdf, così come oggi per esempio non ci sono le prime pagine e alcune pagine interne, quindi diciamo che abbiamo altre pagine ma insomma quella principale non possiamo farvela vedere, però ci sono le altre notizie. Sotto i 40 anni invece 1 su 2 ha prenotato il vaccino, le prime dosi sono un caso, qui parliamo, siamo sul Corriere, parliamo delle agende che si esauriranno entro 10 giorni, poi avanti soltanto con i richiami. Oltre alla rimodulazione del piano ora bisognerà sensibilizzare anche la fascia di età tra i 20 e 40 anni. Dunque avremo una settimana, 10 giorni al massimo per terminare il ciclo delle prenotazioni in agenda, poi si effettueranno solo i richiami. Questo cosa significa? Significa che molta gente il vaccino ancora sta tardando a decidere di farlo. Quindi vuoi perché c'è l'estate di mezzo, vuoi perché appunto molti dicono lo farò a settembre, lo ricorda anche in questo articolo Andrea Taffi, ci penseremo a settembre. questo è lo slogan di chi rimanda appunto questa variante, che rimanda questo vaccino, ma è lo slogan di chi rimandando espone le marche all'arrivo della temibile variante delta. Ecco, messa così è un po', come dire, una sorta di minaccia. Vi sono evidenze scientifiche, vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione, che prevede la somministrazione di due dosi per il completamento del ciclo vaccinale, sono meno protetti contro l'infezione con la variante delta rispetto all'infezione da altre varianti, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato. Il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la variante delta quasi equivalente a quella osservata contro la variante alfa. Sapete che adesso non cambia i nomi, perché probabilmente qualcuno si era offeso, siamo nell'epoca del politicamente corretto, quindi bisogna stare attenti a qualunque cosa, perché se uno fa così si offendono i cinesi, quindi scatta una guerra diplomatica, se uno si chiama questa variante indiana si potrebbero offendere gli indiani. Ma ragazzi, allora quegli spagnoli dovrebbero offendersi per la spagnola di 50 anni fa, piuttosto che per i 50 anni fa, tutte cose che lasciamo perdere, perché ci fanno capire come stiamo veramente perdendo la trebisonda, il senso delle cose. Comunque la Movida intanto è violenta e bisogna fermarla ora, questi sono i problemi che riguardano gli operatori di Levante, siamo a Pesaro, riguardano i concessionari di spiaggia che adesso chiedono postazioni fisse delle forze dell'ordine, rispetto all'anno scorso i controlli sono allentati, il vero problema sono le orde di minori, cioè i ragazzini, le bande di ragazzini che evidentemente, come abbiamo detto e ricordato più volte, ma poi saranno gli esperti, gli psicologi a dirci che cosa sta accadendo, hanno questo desiderio di questa sorta di rabbia repressa, si stanno sfogando in questo modo qua, cioè facendo a botte col primo che capita, organizzando spedizioni punitive, hanno bisogno di sfogarsi. E guardate per esempio cosa succede, qui siamo sempre sul Corriere, raid dei vandali ai bagni jolly joker, tagliano i lettini e slegano le canoe, questo per provare evidentemente un po' di qualche emozione forte, eccetera, eccetera. Quindi si tornerà a giocare a guardie ladri, noi si giocavano da bambini, qui invece bisognerà farlo proprio in modo serio, quindi da una parte i ragazzini che giocano il ruolo dei ladri, dall'altra le forze dell'ordine che dovranno inseguirli, poi metterli anche per esempio in gattabuia, ma non per gioco, magari a qualcuno gli si calmano e raffreddano i bollenti spiriti. Allora, piazzava invece le auto fantasma rivenditore a processo, si tratta di un 57e di Montelabate, accusato di essersi trattenuto almeno 4 caparre. L'ipotesi è truffa, l'avvocato dice ma il mio cliente è disposto a risercire tutti quanti. Poi travolge una ragazza sullo scooter e scappa, caccia all'auto pirata, anzi al pirata in auto, un filmato registra il boato dell'impatto e la vettura in fuga. Maxi Rogo in un campo di grano a Corinaldo, le fiamme alimentate anche dal vento, Corinaldo le scintille partite da un mezzo agricolo in fumo in un'area di 8 ettari, sfiorate un paio di case. Don Matteo invece domani un primo incontro verso il sacertozio, una veglia di preghiera l'8 luglio a Senigallia nella parrocchia della Santa Maria della Pace, con Matteo Gazzarotti riceverà l'ordine sacro anche Don Mircomici, diacono originario di Marotta. Velocemente da fermo, perché di questo si è parlato a lungo, il direttore dell'area vasta numero 4 è Grinta, lo vediamo forse nella fotografia, sì, eccolo qua, ce l'abbiamo nella fotografia, Roberto Grinta, 58 anni, nato a Fano, laurea in farmacia, specializzazione in farmacia ospedaliera, ed è lui, Roberto Grinta, il direttore, un nome a sorpresa per guidare la sanità. Scintille fra i partiti, alla fine spunta il responsabile del Dipartimento di Iesi, si prende il posto del dimissionario Livini, sono numerosi i nodi da affrontare. La scelta della Regione, dopo la fase di stallo, spiazzati tutti i pronostici, bocciate le richieste per avere un dirigente che fosse del Fermano. A Fano invece contrabbando ed evasione, sigiglia la barca di 14 metri, bandiera fantasma, blizza della finanza a Marina dei Cesari per i mancati diritti di confine, e poi un tentato furto nell'edicola di Via Roma a Semprefano. Aumentano le iscrizioni al nido, servizio potenziato, nuova sezione di raccordo a Bellocchi, due in programma a Cucurano, ecco tutti i dati. Calano le nascite, ma è boom negli asili nidi, le richieste di iscrizioni sono passate da 209 a 278, l'assessore Mascherini dice merito degli sconti sulle tariffe. Mentre andiamo a vedere l'altra pagina, quella di Vallefoglia, vedete abbiamo parlato poco fa di incendi, campi di grano che si incendiano per qualche scintilla o per qualche mozzicone di sigaretta buttato incautamente. Comunque c'è anche la siccità che provoca ovviamente incendi, Ucchielli dà lo stato d'allerta, un manifesto sui comportamenti da evitare e un'ordinanza per razionare anche l'acqua. L'acqua che sta via via ogni giorno che passa e siamo ancora alla fine di giugno, sta diminuendo. Fino al 30 settembre è vietato innaffiare giardini e orti, lavare veicoli e riempire piscine. Sotto Aguzzi contro la discarica a vincolo ambientale, così l'assessore regionale ai sindaci per l'impianto dei rifiuti speciali, qui siamo a Monte Grimano. Cattivo gusto contro i cinghiali, Urbino. Ci sono cautele per gli abitanti, trattamento innovativo eseguito in città, ortaggi e frutta da consumare dopo due giorni. Nella notte scorsa in diverse zone di Urbino si è messa in atto da parte del Comune un'azione per tenere a distanza i cinghiali, che sono sempre più numerosi negli ultimi mesi nell'abitato di Urbino. Dalle 23 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina è stato effettuato il trattamento per l'allontanamento degli ungulati selvatici nelle zone di Fontanoni, Villa Maria, Via Bernini, Via dell'Orologio di sopra, Via Rotondi, Via Carnevali, Via Piaccioli, Via Giovanni XXIII e altre vie ancora. Questo trattamento è fatto con un prodotto denominato Garden Carb, sviluppato da un'azienda fiorentina. Si tratta di un prodotto innovativo che non comporta problemi per l'uomo e non fa del male agli animali. L'azione si basa sul gusto. Il prodotto utilizzato è prevalentemente composto da solfato di alluminio e ammonio e si crea una soluzione con l'acqua e di fatto insomma allontana e tiene lontani i cinghiali che sentono questo odore, questa puzza, e quindi se ne stanno lontani. Però che cosa succede? Il Comune di Urbino consiglia agli abitanti di non utilizzare il giardino almeno per le sei ore successive al trattamento e quindi di aspettare due giorni per consumare ortaggio e frutta coltivati nelle zone trattate e di aspettare un paio di giorni prima di annaffiare giardini ed orti. Questo è l'articolo che ha scritto Beatrice Giannotti sul giornale di oggi, sul Corriere di oggi, dove ci sono anche tutte le altre vie che io non vi ho letto, ovviamente per mancanza di tempo. Allora, accordo tra Urbino e Gubbio per il Duca Federico, biglietto unico tra i due palazzi ducali in vista dei 600 anni dalla nascita. Da Fano invece, ecco i progetti di rigenerazione per un totale di 8 milioni di euro presentati dal Comune per il bando del Governo che ammetteva fino a 10 milioni. Il Vice Sindaco su questo tema risponderà oggi all'interrogazione consigliare dei 5 Stelle. E poi Santa Croce di Fano sarà presto autonomo e degno della terza città delle Marche e il proposito di Fortelli d'Italia che prende di mira a serie per le finte battaglie. Poi un ciclista investito da un'auto portato al 118 in ospedale e poi per un colpo di sonno un altro conducente che va fuori strada e resta in leso. Andiamo invece a vedere la pagina di Pesaro dell'arresto del Cardino. Bandali nella notte, questo è il titolo, ai bagni Joker, tagliati lettini e razziati pasticcini. Il fornaio li aveva lasciati vicino al bar poco prima dell'apertura, qualcuno li ha presi e se li ha mangiati. Poi lo strano episodio alla banca di Via degli Abeti a Pesaro, una spaccata alla filiale, resta il giallo, la polizia continua le indagini. Schianto in centro tra due auto a Montecchio, cinque feriti tra cui tre ragazzine, nessuno è grave, le minori si trovavano insieme nell'auto perché accompagnate alla lezione di danza. Uno scontro fruttale alle due del pomeriggio in corso 21 gennaio, cinque feriti appunto tra cui tre bambine di 10 e 11 anni che viaggiavano con la mamma di uno di loro per andare alla scuola di danza. Furto a vuoto invece in un'edicola di Fano, quanti danni però l'esasperazione del titolare della rivendita sulla rotonda di San Cristoforo, cosa pensavano di trovare dentro ad un'edicola. Denuncia invece la figlia a minacce di morte, non mi faceva mangiare, una storia che è finita in tribunale, una settantenne ha raccontato le violenze subite, l'imputata è accusata di maltrattamenti. Servono donatori di sangue, l'appello da Fossombrone, si può iniziare anche a 55 anni. Daniele Ragnetti, eletto presidente di Avis Marche, partendo appunto da Fossombrone nel 1975 e ancora sulla pagina di Mondavio, della Val Cesano del Corriere, il comandante via dopo 44 anni, dice lui ho fatto il lavoro che sognavo, emozioni e calore per il pensionamento di Carbonari, responsabile della polizia locale che è andato appunto in pensione dopo 44 anni con la divisa addosso, quella della polizia locale. E le amministrazioni di Mondavio, Monteporzio e San Lorenzo in campo hanno tributato ieri mattina un grande e caloroso saluto al commissario coordinatore della polizia locale associata a media Val Cesano, Golfardo Carbonare, che ovviamente era visibilmente commosso. Ed ecco qua il vero volto di Raffaello che è tornato a casa, siamo nelle pagine di Urbino, del resto del Carlino, presentato il modello tridimensionale tridimensionale creato dall'Università Torvergata di Roma sulla base del calco del teschio conservato d'Urbino. Eccoli qua. Allora, questo è, come vedete, cerchiato adesso il calco, o meglio, il modello tridimensionale che ha creato l'Università Torvergata. E questo è il teschio dal quale poi hanno preso diciamo il calco che è conservato ad Urbino. Quindi un po' diverso rispetto al DPI, ma insomma va bene lo stesso. Lo sport, lo sport invece il Fano adesso può sperare, la Casertana ha presentato la domanda senza però la fideiussione, quella bancaria, che è necessaria per l'iscrizione alla Serie C. Anche le situazioni delicate di Catania e Novara alimentano le speranze di Granata che ora ci credono, ci credono di più. Dunque c'è questa Casertana che pur avendo presentato questa domanda però non ha la fideiussione bancaria. Ma poi ci sono anche altre situazioni, quindi diciamo che potrebbe davvero sperare di essere ripescata. Nel frattempo il Presidente Fattò Fidani ha ottemperato i propri obblighi, nonostante i dubbi, sulla sua permanenza alla Presidenza della società Granata. L'altra pagina di sport riguarda la Vis, sono molto vicini De Respinis e Farroni, Cangini al lavoro per allestire almeno una parte della Rosa per il ritiro, poi la squadra verrà risistemata nelle ultime settimane di mercato. Sul fronte invece del basket, Delfino e la VL avanti insieme, altri due anni per fare bene. L'argentino dice sono qui perché sono felice, a Pesaro ho trovato un posto che mi ha fatto sentire a casa. Noi ci vediamo stasera alle 20.30, c'è occhio alla notizia, il telegiornale, tra poco la Santa Messa delle 7.30 e poi alle 21 invece, dopo il telegiornale, ci sarà uno speciale sulla presentazione del calendario degli eventi estivi alla BCC Arena. Quindi un altro appuntamento interessante da seguire visto che gli eventi non sono tantissimi come gli anni scorsi, quindi bisogna andarli a cercare e noi questa sera vi daremo la possibilità di vedere e ascoltare quali sono quelli in programma alla BCC Arena di Fano. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti voi. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.